Questa direzione presa dal Sindaco Fassino non piace a molti, non piace sicuramente al Movimento 5 Stelle che dice che non si tratta di una valorizzazione del patrimonio pubblico, ma è tutto il contrario. Noi vi facciamo sentire cosa ci ha detto Vittorio Bertola che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Torino. Ascoltiamolo. Vendere una caserma inutilizzata può essere per lo Stato un buon affare, ma questi beni vengono venduti o svenduti? Di solito alla fine vengono svenduti, nel senso che magari si fa una prima asta che però viene lasciata andare deserta, se ne fa un'altra finché alla fine il prezzo non viene abbassato o addirittura si va a trattativa privata e quindi poi il prezzo è molto basso. E in più alla fine quelli che acquistano spesso sono le stesse banche, investitori, grandi speculatori finanziari che hanno causato questa crisi. Quindi questa manovra di privatizzare finisce poi per favorire gli stessi che hanno creato la crisi. Vendere a dei privati, delle società che forniscono dei servizi pubblici come acqua, rifiuti, trasporti, può coimportare dei rischi per il servizio ai cittadini? Sicuramente li comporta, qui a Torino abbiamo il caso dell'aeroporto che è stato dato in gestione dei privati, venduto già dieci anni fa e in cui il servizio è progressivamente peggiorato, ci sono sempre meno voli, quindi al fine si è dimostrato che la gestione dei privati non ha migliorato il servizio. E adesso che l'amministrazione di Fassino si appresta a vendere tutto il resto, i rifiuti, i trasporti pubblici e così via, succederà la stessa cosa anche in questi servizi. Spesso però queste società pubbliche sono in difficoltà economiche, un privato non potrebbe risanarle? Ma questo è vero ed effettivamente le aziende municipalizzate sono spesso piene di dirigenti politici non particolarmente capaci e anche di funzionali che vengono assunti per dare posti di lavoro. Però questo dovrebbe essere il pubblico a farlo, la soluzione non è svendere ai privati le aziende pubbliche ma è avere una classe politica nuova e capace di farle funzionare nell'interesse dei cittadini.